ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di romanzi del passato oggi vi volevo sempre rendere partecipi del mio giochino a me piace gironzolare un poco di qua e anche un poco di là io giro con una seggiolina portatile leggerissima e quando trovo un punto che mi piace mi fermo e lo disegno oggi sono tornato sul luogo di questo disegno che avevo fatto come si vede nella data in basso a destra il 12 dicembre 2021 ora siamo nel maggio 2022 quel giorno come oggi era un giorno assolatissimo un po di cose sono cambiate quell'alberone lì scuro in fondo con tutti i rami secchi prisciugati ora è rigoglioso e ciccione di foglie ora vi faccio vedere il vero angolo della strada e vi faccio e vi leggo anche un breve testo brevissimo che mi ero scritto mentre facevo questo disegno e il testo faceva mentre disegno un cane attraversa lentamente la strada forse un cagnino arandaggio il suo sguardo scintilla per un istante e poi via lui per la sua vita e io per la mia bene e anche se il sole è ancora dolcissimo grazie macchine bene dicevo anche se il sole è ancora dolcissimo su di noi intanto io vi auguro una bella buonanotte ciccetti grazie a presto